Qui c'è un problema che attenaglia tutta la via Dante Alighieri, che riguarda la velocità e la percorrenza di autovetture, di decine di tir che tutti i giorni attraversano questa trada ad altissima velocità. Si è cercato di ovviare il problema dei pedoni togliendo parcheggi, quindi con un danno anche alle attività commerciali e ai residenti e ovviandolo con, diciamo così, immaginando con una pista ciclabile, quindi creando quest'area pedonale e con la ciclabile. In realtà questo non è un problema che si è assolutamente risolto, per lo più si è aggravato, perché la pista ciclabile è invasa letteralmente dalla percorrenza ad altissima velocità, come dicevo prima, delle autovetture e dei camion. I pedoni non sanno dove passare, perché comunque i cassonetti sono sempre rimasti al loro posto. Non è stato, come promesso un anno fa, in una riunione alla sala della Concordia, da parte dell'assessore Brunori, di un possibile cordolo piuttosto che marciapiedi, anche perché segnalo che hanno partecipato a un bando regionale, che dava la disponibilità di risorse proprio per realizzare marciapiedi, ma il comune di Fano ha sbagliato la domanda, quindi non ha prodotto i documenti nei tempi e nei modi e quindi è rimasta esclusa. Quindi la domanda che i cittadini, i residenti, i commercianti si pongono, oggi che c'è una criticità fondamentale, mancanza di parcheggi, mancanza di sicurezza, mancanza di un marciapiede e mancanza di riqualificazione di questa via, così come promesso un anno fa, l'amministrazione comunale che intenzioni ha? Ha intenzione di intervenire? In che tempi e in che modi? Queste domande non hanno risposte, queste segnalazioni sono pervenute direttamente da parte dei cittadini, anche con delle segnalazioni per iscritto, ma che oggi, a tutt'oggi, mancano di una qualsivoglia risposta. Io credo che gli amministratori debbano dare risposte, soprattutto in situazioni come questa, dove la sicurezza per chi la percorre è un tema importante e fondamentale. Non vorrei, come in tutti i casi, come succede, che quando c'è un incidente importante che coinvolge le persone, a quel punto si attenziona alla situazione. Io direi di farlo in via preventiva. Secondo voi quali sono gli interventi da fare? Bisognerebbe innanzitutto cercare di capire davvero quello che può essere un'area riservata al pedone, quindi che magari costeggia anche tutti i muretti, cercare di anche recuperare dei parcheggi per le attività commerciali, perché davvero qui non si capisce più dove poter legittimamente parcheggiare e limitare questa velocità, quindi in qualche modo con una segnaletica, ma anche un intervento tale che riduca la velocità, che oltretutto interessa tutta la via fino a via degli schiavoni, perché anche laggiù degli interi condomini ci segnalano questa problematica. Che cosa pensano quindi i residenti della pista ciclabile? Che non è servita assolutamente a nulla, che ha soltanto aggravato la situazione, perché ripeto, è completamente invasa dalle macchine e dai tir che anzi la percorrono a maggior velocità.